Questa esperienza è stata meravigliosa, sono stati quattro giorni di prove e di divertimenti, quattro giorni indimenticabili. Mi porta a casa una grande gioia e un'apertura di cuore, un cuore che si è espanso e che fa fatica a stare dentro la gabbia toracica. Posso dire che ho partecipato a diversi eventi, diverse attività con Patrizia, e sto vedendo man mano un'evoluzione in lei, nel suo modo di fare le cose, sempre più verso la gioia, verso la leggerezza, verso il gioco, comunque andando a lavorare in grande profondità. Consiglierei questa esperienza perché è un modo per incontrare persone meravigliose fuori dal comune che vogliono cambiare le cose che non vanno e questo ti permette di non sentirti solo, sentire che quello che vuoi fare è condiviso con altre persone che sono pronte ad aiutarti, supportarti e a vivere con te questi passaggi. Prima di partecipare al ritiro mi sentivo stanco ed emotivato e invece in questo momento mi sento molto carico, entusiasta e contento di essere qui, di aver sperimentato cose nuove che mi danno la spinta a dare il meglio. Ora mi sembra possibile fare dei passaggi e fare quello che sono chiamato a fare, i passaggi che sto cercando di fare da tempo, in modo leggero, senza appesantirmi, senza dover faticare per farli. Una volta a casa continuerò a lavorare al mio progetto di vita e in particolare riprenderò a scrivere il libro La tua strada. Una parola sola a questo evento straordinario, grazie Patti per tutto quello che fai, per l'entusiasmo che ci metti, per quello che scopri e ci permetti di scoprire.